Ciao a tutti amici, ciao dalla vostra Paoletta, sempre qui da Arbor Island, Bahamas. Oggi vi saluto dal porto, il posto in cui sarò ad aspettarvi quando verrete a trovarmi. Questo alle mie spalle è il porto di Arbor Island, qui attraccano tutte le navi, le turistiche che arrivano da Nassua, come il Boenghi, e attraccano soprattutto i water taxi, come quello che sta per arrivare, che vi conduce dall'isola opposta, dove si trova l'aeroporto, su quest'isola. Come potete vedere il porto è veramente molto piccolo, in questi giorni non è molto trafficato, né da turisti né dal trasporto merci, perché questo è un periodo di bassa stagione. Qui la bassa stagione va tendenzialmente dalla metà di agosto, fine agosto, alla metà di ottobre, fino a ottobre, e coincida per l'appunto con il picco della stagione degli uragani. Come potete vedere però non tutti i giorni sono da uragano, perché anche oggi splende un sole splendido. A due passi dal porto siamo già nel cuore di Arbor Island. Qui vi troverete veramente a vostro agio e tra gente amichevole. Sono gli abitanti dell'isola, sono abituati al turismo da tanto tempo, pertanto sono abituati ad accogliere migliaia e migliaia di persone ogni anno e vi tratteranno come amici. Non stupitevi se viaggiando su una delle golf car persone a voi sconosciute vi saluteranno alzando la mano. Qui infatti la mano ad Arbor Island si alza praticamente per salutare tutti. Io stessa non conosco tutte le persone per nome, però le conosco tutte per averle salutate con la mia manina mentre viaggio sulla mia golf car. Sentiremo sicuramente nei prossimi giorni con un nuovo video.